Quello che troverete non è mio. Ha esordito così un 36enne originario di Salerno, pluripregiudicato, reo confesso suo malgrado, quando i carabinieri di Marotta lo hanno fermato a bordo di un Audi A4 Station Vagon di colore grigio all'uscita del casello autostradale cesanense. Con lui un 37enne albanese, entrambi nulla facenti e residenti a Fano. Verso le 10 di sera l'auto si era avvicinata alla barriera, ma una volta avvistata la pattuglia, invertito la marcia e sarei immessa sull'autostrada in direzione nord. I carabinieri, insospettiti dalla manovra, hanno intuito che gli occupanti avevano qualcosa da nascondere. Così a bassa velocità hanno iniziato a pedinarli. Nel frattempo hanno allertato la centrale operativa che ha provveduto ad inviare un autoradio del nucleo operativo radiomobile al casello autostradale di Fano, dove poco dopo, come previsto, si è immesso il veicolo. Appena incanalata nella corsia, utilizzata per il pagamento in contanti, è sbucata fuori l'autoradio. Contemporaneamente la pattuglia di Marotta, da dietro, ha bloccato ogni via di fuga. I due occupanti, vista la situazione, non hanno posto nessuna resistenza. Circondati e fatti scendere ancora prima dell'identificazione delle indicazioni di legge necessarie alla perquisizione, il conduttore e proprietario dell'auto ha affermato che nulla di quello che avrebbero trovato di lì a poco i militari sarebbe stato suo. La dichiarazione, invece, era una chiara assunzione di responsabilità. Infatti, smontando la luce di cortesia, sono stati scoperti all'interno due involucri contenenti 220 grammi di cocaina purissima. Per questo i malviventi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.